Perché la scelta della nuova business unit Sielt Cyber Security? Sielt Cyber Security nasce per soddisfare le esigenze di protezione che provengono dal mondo delle pubbliche amministrazioni centrali, locali e dalle grandi e piccole imprese site sul territorio nazionale che sono sempre più soggette ad attacchi di tipo informatico. Ci troviamo in uno scenario geopolitico particolarmente complesso dove la cultura dell'attacco informatico ad asset strategici del nostro paese sta diventando sempre più importante e la nostra BioCyber nasce appositamente per fare fronte a queste esigenze. Vantaggia importanti clienti nel mondo della difesa, della pubblica amministrazione, del gaming, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Quali saranno i prossimi investimenti per far evolvere l'infrastruttura di Sielt Cyber Security? Investiremo in modo importante in servizi SOC con sistemi di automazione ed orchestrazione. Questo investimento ci permetterà di essere sempre più rapidi in caso di minaccia di attacco informatico o di attacco informatico vero e proprio. Sielt è l'unico system integrator al 100% italiano presente sul territorio nazionale in grado di gestire a 360 gradi tutto il mondo delle telecomunicazioni. Sielt è in grado di progettare una rete, di costruirla, di gestirla, di gestire servizi di call center e di help desk tecnico e soprattutto è in grado di proteggere queste reti di telecomunicazioni che andiamo a costruire. Per questo motivo Sielt secondo noi è in questo momento il partner ideale di sistema per i grandi progetti contenuti nel piano nazionale di ripresa e residenza. Grazie a tutti!